o c'è il cambio di testimone come sempre avviene a quest'ora con jessica tidei che tornerà più tardi per i saluti e per la parte finale io sono paolo paoletti e do il benvenuto immediatamente al nostro ospite o meglio al direttore set fabiano alessandrini buongiorno presidente perché abbiamo detto prima parliamo anche dei direttori eccetera e ho sbagliato titolo allora un precedente vabbè sì ho capito allora trasporto pubblico facciamo il punto perché è fondamentale in questo momento abbiamo sentito e letto parecchio dopo anche la conferenza stampa di fine anno che avete fatto giustamente per spiegare chiaramente senza particolari filtri come come stanno le cose no allora partiamo da questo in tanti ci seguono ci stanno ascoltando com'è oggi con tutte le difficoltà che ci sono tutta la massima attenzione per quello che è il personale alla guida degli autobus e la situazione e come sta procedendo questo trasporto pubblico in piena pandemia intanto buongiorno a tutti ai radio ascoltatori sta procedendo bene nel senso che io vorrei spiegare e vi ringrazio per questa occasione che che se ne dica in tutta la vicenda relativa al ritorno dei ragazzi a scuola soprattutto dei superiori dove ci sono vari attori che concorrono quindi la scuola le forze dell'ordine il comune la provincia il trasporto pubblico che che se ne dica no non è non è il trasporto pubblico il problema tra virgolette come come spesso viene additato cioè il trasporto pubblico in tutta la fase pandemica è stata è stato l'unico settore ad avere dimostrato flessibilità capacità organizzativa e ad aver si e ad aver assicurato no il trasporto e quindi la possibilità di di fruizione perché che cosa è successo c'è stata una prima fase dove la presenza a scuola era stata mantenuta al cento per cento e quindi nulla è cambiato per quanto riguarda la scuola gli altri attori se non i distanziamenti e l'organizzazione interna mentre per noi è stata fin da subito limitata la capienza a bordo all'ottanta per cento per cui incremento dei mezzi incremento del personale e tutta una serie di primi accorgimenti legati anche e soprattutto alla tutela sanitaria sia dei nostri operatori che è il nostro dovere sia dei dei passaggeri dei passaggiatori viaggiatori quindi questa è stata la prima fase poi si è passati ad una seconda fase dove è stata ridotta al cinquanta per cento la capienza di con la presenza a scuola e contemporaneamente è stata ridotta la capienza a bordo dei mezzi al cinquanta per cento e anche qui c'è stata una nuova organizzazione da parte dell'azienda personali e mezzi ma e soprattutto in questa seconda fase c'è stata la la necessità oltre che la richiesta perché altri attori non hanno potuto garantire questo questo servizio cioè quello di di mettere il famoso personale gli stewart così cosiddetti adesso vanno di moda questi termini inglesi che controllassero non solo gli ingressi a bordo degli autobus i distanziamenti la 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 maschere le mascherine ma anche a terra anche a terra purtroppo cioè noi purtroppo sia per capacità ma anche per per compiti principui ci limitiamo alla salita a bordo dell'autobus ma tutto quello che accade dalla scuola all'autobus noi non lo possiamo non lo possiamo garantire però abbiamo garantito tutto il resto si parla adesso non di riapertura delle scuole sappiamo che le marche sono tra le regioni che hanno usato la la linea rigida proprio non solo per il semplice andare a scuola ma perché l'andare a scuola come dicevi prima fabiano comporta il coinvolgimento di tanti attori no partendo anche dal trasporto pubblico vista la situazione attuale secondo te è giusto continuare per una linea cauta relativa alla presenza degli studenti a scuola quindi anche alleggerire quello del vostro lavoro l'impegno oppure è giusto tornare il prima possibile in presenza con gli oneri che ne comporta questa situazione che ne comporterà anche a livello di trasporto pubblico locale ma guardi la discussione ed è ed era la parte mancante il mio discorso però si riallaccia a questa domanda discussione è nata tutta sul fatto che c'è una nuova modalità di presenza a scuola cioè c'è la possibilità nel dpcm c'era la possibilità per le regioni di portare la presenza a scuola al 75 per cento mantenendo la cabienza a bordo gli autobus ea 50 e questo è un po il problema no che che ha fatto un po scaturire tutta tutta la discussione perché chiaramente a questo punto diventa diventa difficile portare il 75 per cento no a scuola contemporaneamente agli stessi orari di ingresso ed uscita con i mezzi al 50 per cento quindi anche la discussione ma allora prendete gli autobus privati no ecco questo poi lo tocchiamo questo capitolo perché no è stato lo tocchiamo dopo subito ma togliamocelo subito la questione dei privati è una questione principalmente economica ma non è economica anche questo un falso problema cioè nel senso il problema c'è perché chiaro che i privati sotto determinati costi non si muovono ma non danno la disponibilità noi abbiamo fatto un'evidenza pubblica con le condizioni che la regione marchia ci dà oggi che tra l'altro sono superiori per questi autobus aggiuntivi rispetto a quelli che percepiamo noi come azienda pubblica ma comunque per i privati non rimane comunque conveniente e la risposta che noi abbiamo avuto a fronte di una richiesta di circa 30 35 e mezzo abbiamo avuto una risposta per noi mezzi quindi c'è un problema economico però viene addirittura dopo perché se nelle marche si andasse a requisiti si con un atto di forza per tutte le marche questi mezzi non sarebbero sufficienti lasciava verde la piccola la piccola fermo che se la cava con una trentina di mezzi ma noi siamo in proporzione meno della metà di alcune altre aziende di bacino delle marche quindi facendo la proporzione qui parliamo di circa 350 mezzi non ci sono in tutte le marche quindi parliamo anche una cosa però l'altra questione che vorrei sottolineare è questa è quando si dice perché la soluzione per portare tutti a scuola ma quando dico tutti dico proprio tutti cioè nel senso che si potrebbe andare anche in presenza al cento per cento non al 75 e la soluzione quando si parla della soluzione dello scaglionamento cioè differire l'ingresso a scuola di un paio d'ore queste queste sono le ore che se il tempo che sarebbe sufficiente per rifare diciamo il giro e questa è una modalità prevista dpcm prevista dalla conferenza unificata stato regioni che ci consenterebbe di portare tutti a scuola perché lo stesso mezzo può comunque garantire servizi fare più servizi su questa modalità noi troviamo la opposizione lo scoglio forte delle delle scuole scuole che si debbano riorganizzare dovrebbero rifare gli orari dopo di che io dico che è un problema essenzialmente di riorganizzazione della scuola perché quando si tirano fuori questioni ma se ha la didattica insomma adesso io sono uno che tornava a casa faceva allora l'orario da 60 e tornava a casa alle 15 perché uscivo ai 14 forse anche a livello di corpo docente credo che poi a un certo punto venga a mancare la disponibilità del monte ore nel senso che se si deve prendi il docente si troverebbe a ripetere la stessa lezione nell'arco dell'intera giornata ognuno ai suoi problemi però io dico se c'è una parte in questo caso il trasporto pubblico che fa sempre tutto e nessun altro attore ci mette un pezzettino di suo è difficile risolvere un problema che è che esula dalla normalità qui siamo in una crisi pandemi che mai vista e mai affrontata prima e quindi io ci andrei piano quando si dice ma no il sistema non è non si è riorganizzato non sta non è pronto guardate noi stiamo facendo fronte a una situazione di questo tipo da un anno e vorrei che la gente prendesse coscienza di questo che sta accadendo io ricordo quando insomma veniva dato atto veniva dato atto che già un anno fa ma erano se non sbagli primissimi di marzo voi presidente alessandrini e il direttore rutolini avevate fatto siete stati tra i primi a fare una conferenza stampa in cui avevate annunciato la riorganizzazione completa del servizio statano le barriere le protezioni per gli autisti la disponibilità di mascherine quando di mascherine non se non se ne trovavano quindi insomma su questo stessati tempestivi e anche lungimiranti e avete subito preso il toro per le corna questo veniva dato atto perché lo ricordo io personalmente di essere te ringrazio che ti ricordi questo aspetto perché poi per noi azienda qui qui giustamente il pubblico si interessa del ritorno a scuola dei ragazzi ed è giusto che sia così ma per l'azienda c'è tutta una parte legata alla sicurezza del proprio personale e che ha comportato una riorganizzazione enorme costi importanti e abbiamo dovuto fare cabine le cabine per per i producenti tutto il personale è addetto alla sanificazione dei mezzi che vengono sanificati costantemente dopo ogni trasporto quindi è una riorganizzazione importante in termini sia organizzativi che ti costi e noi lo abbiamo fatto tempestivamente perché abbiamo avuto subito la la sensazione di ciò che dovevamo affrontare cioè della gravità del momento quindi siamo andati subito in massima allerta precauzionale e per fortuna siamo stati previdenti perché ripeto quando altri non avevano le mascherine noi le abbiamo potute distribuire al nostro personale a massima sicurezza e a fronte di questo anno ormai di emergenza pandemica è diminuito e di quanto l'utilizzo del trasporto pubblico da parte parlo dei comuni cittadini perché ci sono tratte che ancora vedo sono insomma le più importanti hanno una frequenza abbastanza sono tratti che invece ormai sono vuoti autobus vuoti no? questo è un argomento di cui il trasporto pubblico è completamente distrutto così nell'accezione del termine di come lo ricordavamo prima è completamente distrutto andrà ricostruito mattone mattone io mi auguro che si possa tornare più presto ai livelli precedenti ma sarà una fatica enorme e le aziende e i comuni dovranno fare un lavoro enorme da questo punto di vista io è un tema questo che al di là della crisi pandemica mi sono posto da diverso tempo sia in ottica aziendale che nell'ottica dell'organizzazione più generale del sistema di viabilità dove i comuni ci debbano donare una mano perché la legge lo prevede in qualche modo si è parlato di UMS di piani urbani per la mobilità sostenibile fin da prima della pandemia ma oggi per il futuro diventa essenziale e così come diventa essenziale un ragionamento che riguarda la transizione tecnologica che per quanto riguarda il trasporto pubblico riguarda sia i mezzi che i sistemi intelligenti diciamo a bordo noi stiamo affrontando, avevamo iniziato anche da prima della crisi pandemica ma la transizione verso l'elettrico guardate è un qualcosa che cambia completamente il paradigma con cui ci siamo confrontati prima della pandemia per quanto riguarda l'organizzazione dei trasporti anche un investimento consistente di quello che sarà un progressivo rinnovo cambia completamente tutto e i tempi arriveranno prima di quello che uno immagina guardate io vi do un dato, entro il 2023 non si potranno più acquistare autobus a gasolio questo per quanto riguarda il TPL o meglio non si potranno più acquistare né per proprio conto né con il contributo regionale e nazionale quindi entro il 2023 si dovrà andare necessariamente verso l'elettrico e questo in termini organizzativi è pesante perché non si tratta soltanto di comprare un autobus piuttosto che un altro cambia completamente l'infrastruttura, l'infrastruttura di ricarica gli spazi nei depositi, l'organizzazione dell'officina, gli stalli insomma è una cosa pesante su cui noi da tempo ragionavamo e che ci ha portato anche a fare alcune scelte fondamentali me la serve su un piatto d'argento il presidente serviranno anche degli spazi riqualificati e nella conferenza stampa che avete fatto per tirare le somme dei devinamenti uno dei pilastri e degli argomenti è stato quello dell'area ex stazione di Santa Lucia ma serviranno spazi riqualificati e servirà personale adeguato soprattutto quest'ultimo perché se prima avevamo ragionato sempre in termini di esperienza cioè ad esempio per certi ruoli diciamo quello che aveva fatto un percorso all'interno dell'anzienda magari partendo da livelli dall'autista o dal meccanico poi mano a mano con l'esperienza aveva avuto anche la possibilità di essere utilizzato i ruoli anche decisionali insomma più alti quindi conoscati all'interno dell'azienda e oggi non è possibile noi oggi se non abbiamo personale atto ad affrontare questa transizione tecnologica siamo fuori siamo fuori dalla competitività siamo un'azienda che sarà costretta ad appoggiarsi altrove e quindi la soluzione quale sarà in prospettiva? noi abbiamo fatto una scelta importante cioè la scelta quella di cui si è anche qui parlato molto spesso sproposito noi abbiamo fatto una scelta ad esempio quella del doppio direttore perché? perché c'è il direttore di esercizio classico come abbiamo sempre conosciuto ma per quanto riguarda tutta la gestione del parco automezzi dell'officina, del deposito e in questo caso di infrastrutture tecnologiche nuove e noi abbiamo bisogno di persone qualificatissime per cui queste persone le trovi soltanto se hanno un ruolo alleguato di responsabilità e anche di remunerazione quindi noi abbiamo optato per il doppio direttore perché ad esempio per tutta questa parte il direttore sarà un ingegnere un ingegnere qualificato con esperienza sul campo per fortuna il concorso è andato bene abbiamo trovato una persona giovane ma già con esperienza importante sulle spalle che ci consentirà di affrontare questa transizione il futuro va affrontato per tempo con programmazione, con visione mi diceva sempre un vecchio questo era per la politica ma per tutto diceva guarda non farti sopraffare dal condigente cioè non stare sempre con la testa bassa sul problema che ti si presenta ogni giorno costantemente e che pure c'è dice ma ogni tanto alza lo sguardo verso quella che può essere la prospettiva in un'azienda come la Steat bisogna necessariamente alzare lo sguardo perché noi non possiamo sbagliare nulla io vorrei che ci si rendesse conto di questo siamo un'azienda piccola nata purtroppo male sottocapitalizzata non abbiamo grossi polmoni grosso capitale a disposizione noi non chiediamo soldi ai soci diciamo da circa 20 anni con un unico intermezzo dieci anni fa dove la provincia di Ascoli ha portato un minimo di capitale in un momento difficilissimo e metteva a rischio anche le sorti future dell'azienda ma ai comuni sono 20 anni che non chiediamo soldi quindi abbiamo pochi mezzi pochi soldi non avevamo neanche il deposito e ci arrivo perché non voglio sfuggire da questa cosa e quindi quando prendiamo del personale non ci possiamo permettere di sbagliarlo quindi ogni colpo deve andare a segno se vogliamo continuare ad andare avanti con questa azienda ad essere competitivi ad essere fermani beh certo ad essere fermani perché non sempre è così perché mi sembra che anche istituzioni del fermano insomma importanti ormai abbiano comunque quote di compartecipazione o altro noi continueremo finché ce la faremo però non possiamo studiare nulla giusto con tutto il terremoto tra virgolette di programmazione che è arrivato con la pandemia perché tutti i piani sono stati sono finiti lì e si è ripensato tutto come spiegava anche il presidente allora io ho una domanda che ci arriva dagli ascoltatori come muoverci però anche qui l'avete detto io ricordo abbiamo pubblicato parecchi articoli però che chiedono sul fronte dei rimborsabbonamenti anche qui ci sono gli uffici a disposizione no c'è stato un equivoco che si è sollevato pochi giorni fa ma allora se vogliono riguardo ad alcune persone che dicevano che non gli era stato dato la possibilità di scegliere il rimborso attraverso il biglietto ma gli si dava un voucher allora il voucher è una possibilità in più che diamo noi quindi chi vuole il biglietto potrà tranquillamente ottenere il biglietto è una possibilità in più che facciamo per incentivare insomma l'uso del mezzo perché allora chi prende il biglietto come rimborso prende il biglietto al prezzo pieno insomma quindi il rimborso gli viene calcolato col biglietto al prezzo pieno mentre con l'abbonamento aveva pagato aveva succulito di sconto di uno sconto importante noi dando il voucher non solo confermiamo uno sconto rispetto a quello che sarebbe il biglietto ma il voucher ti dà la possibilità anche di usare questo voucher anche su tratti diverse mentre se uno prende il biglietto la tratta è quella è vincolata quindi è una possibilità in più che abbiamo dato rispetto a quello che è la possibilità ma se chi vuole il biglietto può prendere tranquillamente il biglietto si va ai nostri uffici oppure telefono c'è problema c'è la disponibilità in questo quindi allora abbiamo gli ultimi 5 minuti e io a questo punto però tornerei un attimo da dove siamo partiti quindi a cosa andremo incontro diamo uno sguardo in prospettiva come diceva il presidente però parlando proprio dei prossimi mesi perché ieri Acquaroli ha detto che se l'indice rimane questo potrebbe essere anticipata la riapertura delle scuole superiori in presenza altrimenti il 31 gennaio comunque fatto sa che tra due settimane ma l'impotesi è quella di riaprire comunque al 50 e 50 quindi al 50% in presenza e al 50% in didattica a distanza quindi noi da questo punto di vista siamo pronti che non avremo nessun tipo di problema avete o meglio è partita una richiesta alla ragione di ritoccare le tariffe per poter consentire ai privati di fornire più mezzi oppure l'offerta alla regione è quella e quella rimane la regione è già presente la situazione perché con la regione ci rapportiamo costantemente quindi c'è ben presente la situazione e sta a lei scegliere quale tipo intervento però ripeto al di là delle tariffe che consentirebbero magari una maggiore offerta rimane il fatto che comunque andando al 75% non ce la faremo comunque cioè non ci sono mezzi a sufficiente a sufficienza per tutte le mark paradossalmente magari vista la presenza affermo di alcune aziende importanti magari a fermo siamo più facilitati a fermo riusciremmo a macerata ancora e pesano non riusciranno di sicuro diciamo che noi come territorio abbiamo una concentrazione importante di autolinee anche private che offrono questo servizio su questo abbiamo noleggiatori importanti però vanno esclusi quelli che fanno le linee interracionali perché quelli non possono non rientro però abbiamo comunque una buona capienza noi nell'evidenza pubblica che abbiamo fatto oltre ai locali ci hanno risposto anche alcune aziende del San Benedettese o del Maceratese ma parliamo di pochissimi mezzi però ecco noi saremmo in grado di fare tutto quindi insomma finché si resta anche riaprono le scuole al 50% parliamo di superiori il problema non c'è si pone nel momento in cui dovesse aumentare la percentuale degli studenti che vanno a scuola e da lì sempre se non si modificano orari esatto l'alternativa sarebbe quella di scaglionare se ci fosse lo scaglionamento noi porteremmo il 100% non il 75% 100% ecco è chiaro senta senti ti do un po' del play un po' del tu perché in persona ti do del tu ufficialmente posso darle del lei forse porto sempre tu dovrebbero darmi del buio no senti Fabiano deposito no io volevo chiederti questo vabbè del deposito abbiamo detto no l'ha accennato comunque anche qui credo che l'operazione del deposito è anche un'operazione in prospettiva come dicevi tu sì e tengo a dire una cosa io adesso al di là di tutte le valutazioni che ognuno fa e noi abbiamo fatto le nostre noi abbiamo fatto le nostre valutazioni tecniche le abbiamo fatte con con il nostro con i nostri consulenti con le revisione dei conti con insomma con i tecnici noi abbiamo fatto le nostre valutazioni e abbiamo deciso comunque di andare all'acquisto ma al di là di quello che sono le valutazioni di chiunque altro e che noi abbiamo spiegato bene le nostre penso si sia capito sia in termini di costi per l'azienda anche i costi che sarebbero stati necessari allontanandoci da fermo e fare un nuovo investimento insomma al di là di tutto io tengo a dire che questa operazione è un'operazione per la quale io ringrazio il consiglio d'amministrazione tutti i membri del cda il collegio dei revisori perché guardate noi abbiamo affrontato con questa vicenda momenti difficilissimi compressioni fortissime legittime e dico anche poco legittime abbiamo tenuto con saldezza questo questo lo abbiamo affrontato con saldezza in questo momento e soprattutto con una saldezza morale lo voglio dire che ci fa onore è una medaglia che ci appuntiamo non ce la riconoscerà mai nessuno però noi la porteremo dentro nel tempo questa esperienza ce la porteremo dentro di noi negli anni a venire e poi che ci sia dibattito è anche giusto che sia così ben venga fra un anno Fabiano Alessandrini sarà qua per tirare le somme nel bilancio 2021 cosa vorresti accadesse a parte la fine della pandemia i vaccini eccetera io vorrei la fine della pandemia perché che significherebbe che questa azienda ricomincia a fare il suo lavoro per intero ci sarà da questa lezione anche ma anche una revisione delle tratte cioè vi state facendo un'idea proprio anche in questa situazione così estrema quali tratte sono davvero essenziali e quali invece possono subire dei cambiamenti noi abbiamo chiara la situazione da tempo abbiamo effettuato revisioni su revisioni vi ricordo che ci sono stati ben due tagli al trasporto pubblico negli anni passati e li abbiamo affrontati perché l'azienda comunque si si è riorganizzata sa le tratte sa quello che fare quindi su questo abbiamo operato noi abbiamo una domanda abbastanza rigida abbiamo il trasporto scolastico come 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 principale fattore poi ci sono le linee storiche che continuano dare parecchi frutti anche perché pensiamo che ci sia anche un'abitudine no ad esempio la 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 porto San Giorgio ferma Mandola quindi la linea che va lungo la Fai Rienzi è una linea che storicamente porta gente la gente abituata a prenderla non so se dipende dall'abitudine fatta col trenino ma però però c'è questa attitudine e mano a mano abbiamo anche incrementato la frequenza dei servizi ed è stata sempre una linea che ci ha dato soddisfazioni e poi c'è la porto San Giorgio fermo l'urbana che è un po' il nostro fiore all'occhiello perché la diciamo la cosiddetta metropolitana di superficie del Fermano noi sono le uniche linee a cadenza non ad orario a cadenza cioè ogni 20 minuti passa l'autobus era partito anche il discorso con Trenitalia con le ferrovie di prolungare la Fermolink che è un prolungamento che con il biglietto del ferroviario io arrivo a fermo prendendo l'autobus che diventa una prosecuzione del treno e poi c'è il futuro che in parte noi abbiamo iniziato anche a costruire con il sistema satellitare di controllo della flotta il pubblico vede le baline quelle luminose a terra dove vede in arrivo l'autobus poi ci sta i minuti che mano a mano quello è quello che si vede di più ma poi c'è tutto il controllo della flotta che noi abbiamo attraverso questo sistema e poi ci sarà la bigliettazione elettronica anche quella quanto manca manca poco speriamo insomma c'è stato un ricorso da parte sulla gara regionale c'è stato un ricorso da parte come sempre del secondo arrivato quindi non appena si sbloccherà anche lì ci sarà da fare quindi abbiamo un bel po' da fare di sfide bigliettazione elettronica elettrico c'è da lavorare insomma c'è da lavorare bene bene allora buon lavoro presidente Fabio Alessandini la Stata e doveroso un grazie a tutti gli autisti che ogni giorno sono in giro eccetera eccetera perché fanno un grande lavoro quindi un grazie a tutti loro io le ringrazio poi mi hai dato l'occasione perché poi qualcuno mi rimprovera sempre già ma gli autisti c'è sempre l'organizzazione dell'azienda ma gli autisti quindi ringraziamo gli autisti perché è anche vero che quando si parla di azienda si parla di un unicom che comprende da chi fa le pulizie esatto da chi fa le pulizie a chi la guida l'azienda è proprio questa è tutto qua poi chi fa le pulizie in questa fase qui andrebbe ringraziato anche maggiormente perché tutte le sanificazioni se a bordo si viaggia sicuri vi do un dato se c'è un minutino cioè noi abbiamo avuto per dirvi per assicurare anche la gente che ci ascolta noi abbiamo avuto due casi in tutto il periodo pandemico di persone che sono risultate positive che hanno viaggiato a bordo i nostri autobus tutte le altre persone che sono state rindracciate che viaggiavano a bordo e che abbiamo rindracciato che sono state messe poi in quarantena nessuna di queste ha contratto si è rivelata poi positiva a sua volta quindi segno che insomma adesso al di là della fortuna segno anche che si lavora si lavora anche bene insomma con contrariamente quello che si dice noi abbiamo fermato autobus con gente che si rifiutava di mettere la mascherina li abbiamo fermati è arrivata la polizia o i carabinieri ed è intervenuta quindi su questo siamo rigorosissimi poi qualcosa ci potrà sfuggire insomma siamo umani anche noi possiamo sbagliare grazie presidente buon lavoro e ci risentiamo per fare il punto fra qualche mese va bene? grazie a voi grazie Fabiano Alessandrini